buonasera a tutti questa sera vorrei parlarvi di morus alba che è il nome botanico della pianta del gelso bianco il gelso bianco in particolare il gelso bianco giapponese è un grande albero molto longevo perché cresce praticamente e resiste fino a 150 anni di vita è un grande albero con un tronco liscio e ha una folta chioma con foglie di un bel colore verde sono piccole quasi a forma di cuore i frutti tutti li conosciamo perché assomigliano molto ai nostri lamponi come forma il gelso bianco è originario dalla cina e dal giappone e venne importato in europa nel quindicesimo secolo con lo scopo della diciamo utilizzato per le foglie utilizzate per i bacchi da seta per mantenere i bacchi da seta proprio per le filature e ultimamente proprio andato in disuso perché viene utilizzato semplicemente come ornamento in parchi e giardini come tutte le le piante della famiglia delle morace ha la caratteristica di essere dotato sia a livello delle foglie che sotto la corteccia di tutto una rete di canali fittissimi latticiferi perché è una pianta ricca di lattice che è urticante ma a noi cosa interessa dal punto di vista fitoterapico la grande scoperta del gelso bianco è l'essicatura della radice l'estratto secco molto ricco di principi attivi in grado di abbassare gli zuccheri a livello del nostro circolo sanguigno quindi molto importante come pianta nella terapia come coadiuvante nella terapia del diabete o ancora nell'utilizzo nelle diete ipocaloriche potete farvi prescrivere la dose adeguata e personalizzata dal vostro medico di fiducia o dal vostro farmacista di fiducia arrivederci e buona serata